bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video andiamo di nuovo ho un po giù la voce no allora facciamo un nuovo acquisto dai o vale che sto spendendo un sacco di soldi per questo lanciarazzi quindi gradirei che non ci fosse più nessuno che vieni a scassarmi la minchia io sono tra l'altro in solo di squad devo fare una kill con un'arma esplosiva ok perfetto che c'è anche il p90 lo lascio sotto non mi interessa più direi che andiamo direi che abbiamo clean ce la giochiamo clean intanto ho fatto la sfida da 22k 1 2 3 4 penso che fossero bottazzi e penso che fossero bottazzi quindi non non ci esaltiamo non ci esaltiamo non ci esaltiamo erano bottate erano bottazzi guys saranno bottazzi 100 100 non arcatemi in testa vi prego non arcatemi in testa vi prego non arcatemi in testa vi prego easy non ci esaltiamo non è una bella situa non è una bella situa è sembra che un team che c'è un attimo una mezza idea non è facile non ho preso la kill tra l'altro quindi colera il quattro è stato un attimo di spark night buongiorno 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 vi puoi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Un attimo guys Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti